Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Nella docuseria Il Caso Yara, oltre ogni ragionevole dubbio, la storia viene ricostruita passo dopo passo con molto materiale inedito. Tra questi, troviamo i filmati del matrimonio di Massimo Bossetti con marita, le telefonate della madre al cellulare spento della figlia scomparsa e i video delle lezioni di ginnastica della maestra Brenna. È difficile stabilire se Bossetti, quando si dichiara innocente, stia recitando o sia sincero. Durante un interrogatorio subito dopo il suo arresto nel giugno 2014, ha mostrato di poter piangere a comando, ma le sue lacrime sembrano spesso genuine e abbondanti. Il pubblico potrebbe rimanere diviso dopo aver visto il Caso Yara, oltre ogni ragionevole dubbio, disponibile on demand. La serie, composta da cinque episodi di circa 50 minuti ciascuno, presenta per la prima volta Bossetti in video dal carcere. Ma non aggiunge nulla di nuovo al merito del caso. Emergono verità inquietanti dai commenti, riemergono i sospetti sulla maestra di ginnastica Silvia Brenna, che aveva lasciato una traccia biologica sul giubbotto di Yara. E affiorano incertezze e possibili bugie sugli spostamenti del custode della palestra. Credete che Bossetti sia innocente e che ora possano esserci sospetti anche sulla maestra? Lasciate la vostra opinione nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente.